Testa coda in programma nella tredicesima giornata del campionato allievi elite fascia B. La vigor per Conti di Miccio scende in campo con Casagrande tra i pali, Pompili, Pietro Battista, Di Salvo e Valentini in difesa, Russo, Rossi e Bruno a centrocampo, Barba, Filonardi e Palladino in avanti. Rispondono gli ospiti di Menghi con Bonifazzi tra i pali, Cedrone, Trasimeni, Di Giuseppe, Lai in difesa, Falcioni, Rossi, Testa, Di Giuseppe, Virgili a centrocampo e Bianconi in avanti. In avvio Filonardi sperisce fuori a tu per tu con il portiere, ma si fa perdonare subito dopo, girando in rete sugli sviluppi di un corner di Barba. Il portiere ospite per poco non combina la frittata al minuto 9 sul pressing di Bruno, ma è invece abile a disinnescare il triangolo Russo-Barba al diciottesimo. Bonifazzi ancora protagonista al ventiduesimo quando si oppone al capitano Blaugrana, ma non può nulla sul capovolgimento di fronte. La difesa di casa si lascia nuovamente sorprendere su calcio piazzato. L'asse Barba-Filonardi colpisce ancora e il numero 9 festeggia la doppietta personale. Un primo tempo a senso unico, si chiude prima con il diagonale velenoso di Barba, ma soprattutto con la ciliegina di Russo su calcio di punizione, pallone sotto la barriera e in fondo al sacco. Nella ripresa sale in cattedra il nuovo entrato Paglino, che al minuto 10 raccoglie il cross di Palladino e deposita in rete da due passi. A porta sguarnita anche Palladino potrebbe regalarsi la gioia personale, ma spreca tutto al minuto 14. Con il mancino la manita Blaugrana è solamente rimandata e si materializza al diciannovesimo. Bonifazi è bravo a respingere il tiro di Paglino, ma non può nulla sulla ribattuta vincente di Carmignani. Il football club prova a rendere meno amara la sconfitta e accorcia le distanze. Al minuto 22 sarà Virgili a trasformare in modo impeccabile il calcio di rigore fischiato per fallo di mano di Altamura. La rete del definitivo 6-1 è da incorniciare. L'autore è Paglino, che disegna una traiettoria perfetta a giro con il mancino. E anche lui finisce sul tabellino marcatori per la seconda volta. Vola la capolista di Miccio, più 5 sulle inseguitrici.